Missione romana per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Sicurezza, sviluppo e rifiuti sono gli argomenti che De Luca metterà sul tavolo nei diversi incontri con il Ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozzi. La campagna dunque torna sul tavolo del Governo mentre ancora calda la polemica sul mezzogiorno, i dati drammatici della Svimez sulla recessione al Sud, che porterà tra pochi giorni ad aprire una discussione nella direzione nazionale del PD dedicata tutta alla questione meridionale. Il tour romano parte dal Ministero della Difesa per discutere con il Ministro Pinotti di un incremento delle forniture da parte della Fincantieri di Castellammare di Stabbia, un'iniziativa sostenuta dai sindacati. La seconda tappa, importantissima per De Luca, è a Palazzo Chigi. Sul tavolo il piano rifiuti. Il tempo stringe, entro venerdì bisogna inviare a Bruxelles il piano delle misure che si intende adottare dopo la maximulta dell'Unione Europea per limitare il peso delle sanzioni De Luca ha proposto subito un progetto per l'eliminazione delle ecoballe, specie quelle accumulate nel sito di Taverna del Re. Il nodo da sciogliere oggi è chi sia il proprietario delle ecoballe, nodo che secondo De Luca va sciolto prima senza aspettare la fine del contenzioso tra la FIBE e la struttura commissariale. Al centro del colloquio con Alfano, infine, ci sarà una riflessione operativa sul progetto Sicurezza, con particolare riguardo all'area di Giuliano per l'immediato smantellamento del campo Rom e la soluzione del problema dei rughi di rifiuti tossici. Ad Alfano, De Luca chiederà di potenziare gli investimenti per il controllo della terra dei fuochi.